E' tempo di dire addio ai vecchi sistemi. Contro gli insetti che volano e che camminano c'è Permetral. Grazie al suo vaporizzatore Permetral si spruzza direttamente su muri, battiscopa, vetri e tutte le superfici senza macchia e senza odore. Contro tutti gli insetti Permetral, la soluzione insetticida. Grazie a tutti.